Matteo Redolfi Broccon è uno dei consigli comunali di Aviano e ha la delega alla ferrovia. Da qualche settimana è ripreso a passare il treno? Sì, ha ripreso a passare dal 10 di dicembre scorso, l'11 sono iniziate le corse, dopo una pausa di alcuni anni, infatti dopo il deragliamento del minuetto del 6 luglio del 2012, quindi una parentesi di 5 anni, 5 mesi e 5 giorni possiamo dire di sosta. È stato un lavoro di molti autori, dalle istituzioni, associazioni e portatori di interesse, le scuole e altri servizi importanti come la FVG3 che è la ciclabile che passa a parallele e che naturalmente come amministrazione, grazie anche a una serie di fondi, stiamo mettendo mano per renderla fruibile in tutto il suo percorso. La FVG3 è tra l'altro la ciclabile che passa ovest-est e tutta la regione, tutta la parte della Pedemontana. C'è anche il progetto del Camino di San Cristoforo che da Belluno scenderà per andare a attraversare tutta la nostra Pedemontana e quindi anche in questa ottica la nostra stazione ferroviaria diventa punto di interesse sia per arrivare ai pendolari, sia per i treni storici, sia per quanto riguarda tutta questa serie di opportunità, quindi salire sul treno con la bicicletta e naturalmente anche come ho già detto il Cammino di San Cristoforo.